Ciao a tutti! Anche oggi continuiamo con l'esplorazione dello spazio 3D di After Effects e impariamo ad usare più punti di vista sulla stessa scena, perché questo, come vedremo, ci aiuterà a controllare meglio la distribuzione degli oggetti nello spazio 3D. Bene, allora continuiamo a lavorare nella scena che abbiamo iniziato a costruire nella lezione precedente e prima di cominciare facciamo anche un po' più di spazio qui nella zona centrale. Stringiamo le palette verso destra e stringiamo anche la finestra di progetto. Per avere più punti di vista aperti contemporaneamente, veniamo qui in basso, in questo menu, dove c'è scritto One View, una vista, appunto, e se ci clicchiamo sopra vediamo che abbiamo diverse opzioni. Per esempio abbiamo l'opzione due viste orizzontali, cioè così, una destra, una sinistra. Abbiamo l'opzione due viste verticali, una sopra, una sotto. Abbiamo l'opzione quattro viste, in cui abbiamo quattro punti di vista sulla scena, poi abbiamo quattro punti di vista distribuiti in modo diverso, cioè col punto di vista principale a destra e quelli secondari a sinistra, oppure il contrario, oppure il punto di vista principale sotto e quelli secondari sopra, e poi abbiamo l'ultimo così col punto di vista principale sopra e gli altri sotto. Ora, quattro punti di vista forse sono anche troppi per noi. In queste lezioni ci limiteremo ad usarne solo due e, più precisamente, useremo la configurazione due viste orizzontali, questa qui. Al momento, a destra, io vedo il punto di vista Active Camera, e c'è scritto qua sopra che si chiama così, che è quello che abbiamo usato fino adesso, cioè frontale e in prospettiva. Nel monitor di sinistra, in questo momento, è impostato il monitor Top. C'è scritto qui nell'angolo in alto, a sinistra. Da ora in poi, noi useremo appunto questa impostazione. Nel monitor di destra, lasceremo sempre la visualizzazione Active Camera, che è la più importante, quella che realmente viene esportata alla fine. A sinistra, invece, cambieremo di volta in volta la visualizzazione. Cercheremo di usare il punto di vista più adatto allo scopo che dovremo raggiungere in quel momento. Per cambiare i punti di vista qui nel monitor di sinistra, procediamo così. Innanzitutto, clicchiamo in un punto qualsiasi di questo punto di vista per attivarlo, per esempio in questa zona qui. Ora il punto di vista è attivo, e mi accorgo che è attivo perché vedo che gli angoli del punto di vista sono diventati azzurri. Ecco, questo è il segnale che in questo momento il punto di vista attivo è questo qui. E poi andiamo nel menu qui dove al momento c'è scritto Top e scegliamo il punto di vista che ci serve. Ora li vediamo rapidamente tutti e poi impariamo anche a muoverci al loro interno. Innanzitutto diciamo che i punti di vista che appartengono a questo primo blocco, da front fino a bottom, sono quelli ortogonali, cioè ci danno una vista sulla scena da varie angolazioni senza però la prospettiva. Tra un attimo capiremo bene cosa significa. Poi abbiamo i punti di vista custom view che sono quelli personalizzati e che sono anche in prospettiva. Allora incominciamo dal primo che è front. Bene, il punto di vista front è chiaramente il punto di vista frontale. Però a differenza del punto di vista active camera che è anch'esso frontale non è in prospettiva. Cioè ad esempio se io prendo in considerazione la casa e con il terzo parametro della posizione la sposto in avanti o la avvicino a me, vedete che nel monitor active camera la vedo piccola quando la allontano o la vedo grande quando la avvicino mentre nel monitor front rimane sempre della stessa grandezza. Appunto perché la prospettiva non entra in funzione. E la stessa cosa succede anche al prato. Se lo sposto in verticale, in active camera vedo che cambia la prospettiva quando lo alzo o lo abbasso, mentre in front è sempre rappresentato da una linea perpendicolare a noi. Quindi ad esempio il punto di vista front è molto comodo per appoggiare con precisione gli oggetti sul prato perché basta verificare che siano appoggiati alla linea. Qui per esempio se andiamo a vedere da vicino la casa ci accorgiamo immediatamente se appoggia al prato oppure no. Mentre in active camera dobbiamo vedere quando la casa comincia a intersecare il prato prima di essere sicuri che la stiamo realmente appoggiando sopra. In questo caso ad esempio a essere pignoli la casa andrebbe spostata di qualche pixel più in alto. Quindi con la position Y la spostiamo in modo che appoggia precisamente sul prato che è rappresentato da questa linea qua. Bene andiamo avanti. Vediamo altri punti di vista. Attiviamo il punto di vista left. Questo è il punto di vista da sinistra non in prospettiva. Quindi in questo caso sia il prato sia la casa sono rappresentati da queste linee qua. Il prato è questa linea orizzontale che vedete qui e la casa è questa linea verticale che appoggia sopra. Proseguiamo. Attiviamo il punto di vista top. In top vediamo la scena dall'alto sempre senza prospettiva. In questo caso il prato è visibile perché è di fronte a noi e la casa è rappresentata da questa linea qui. Per esempio qui come vedete mi accorgo molto bene che fra la casa e il vialetto c'è un minimo di distanza. Quindi non ho messo perfettamente la casa al termine del vialetto. Per essere più preciso dovrei spostarla un poco più indietro. Quindi con la posizione Z la sposto un poco più indietro e adesso sono sicurissimo che si trova al termine del vialetto. Molto più sicuro di quando osservavo la scena dal punto di vista active camera. Bene. Gli altri punti di vista ortogonali back, right e bottom sono sicuramente i meno utilizzati di tutti e sono gli opposti degli altri tre. Per esempio back è l'opposto di front e quindi vedo la casa capovolta. Right è l'opposto di left e bottom è l'opposto di top. Quindi vedo il prato capovolto. Bene. Poi abbiamo custom view cioè i punti di vista personalizzati in prospettiva. Attiviamo custom view 1. In questo caso è un punto di vista dall'alto in basso da sinistra a destra ed è appunto in prospettiva. E questo punto di vista come si capisce bene è molto comodo per avere una panoramica generale sulla scena. Gli ultimi due punti di vista sono simili al primo. Il custom view 2 è dall'alto in basso frontale e il terzo punto di vista è dall'alto in basso da destra. Ma noi ne useremo sempre solo uno perché comunque è possibile muoversi all'interno di questi punti di vista. Rimettiamo custom view 1 e adesso vediamo come possiamo noi osservatori spostarci in un altro punto per osservare la scena. E per poterci muovere all'interno di questa scena dobbiamo usare degli strumenti apposta che troviamo in questo menu qui che ha il simbolo di una camerina. Se ci cliccate sopra compaiono tutti i comandi. Incominciamo da orbit camera. Selezionate questo comando qui. Adesso venite nel punto di vista custom view e cliccate e trascinate all'interno del punto di vista. Come vedete stiamo ruotando orbitando intorno alla scena da destra a sinistra oppure alto basso. Con il secondo strumento track x y invece posso spostarmi lateralmente a destra a sinistra oppure in alto e in basso. E con il terzo strumento track z se clicco e trascino posso avvicinarmi alla scena oppure allontanarmi. Magari allontaniamoci un poco di più così vediamo anche lo spazio intorno alla scena. Questi tre strumenti di navigazione all'interno del punto di vista possono essere unificati in un unico strumento cioè il primo che si chiama unified camera. Infatti se lo selezioniamo e clicchiamo con il tasto sinistro e trasciniamo è come se usassimo il primo strumento quello per orbitare intorno alla scena. Se usiamo il tasto destro è come se usassimo il terzo strumento quello per zoomare per avvicinarci e allontanarci e se usiamo il tasto centrale cioè clicchiamo sulla rotella abbiamo il secondo strumento quello che ci permette di spostarci lateralmente destra a sinistra alto basso. Quindi ripeto con lo strumento unificato unified camera abbiamo tutti i tre comandi distribuiti sui tre pulsanti del mouse. Il tasto sinistro ci permette di orbitare, il tasto centrale ci permette di spostarci lateralmente e il tasto di destra ci permette di zoomare. Questi strumenti possono essere usati anche all'interno degli altri punti di vista. Per esempio se noi andiamo in top in questo caso io vedo solo una porzione del prato però se uso il tasto destro del mouse clicco e trascino posso allontanarmi e a questo punto vedo di nuovo tutto il prato. Poi con il tasto centrale lo posso spostare al centro dell'inquadratura però se cerco di usare lo strumento per orbitare quindi clicco sul tasto sinistro vedete che non succede nulla perché nei punti di vista ortogonali non è possibile orbitare intorno alla scena cioè avere una vista in diagonale sulla scena e la stessa cosa vale anche per front. Posso avvicinarmi allontanarmi posso spostarmi a sinistra destra ma non posso orbitare intorno al punto di vista. Bene ora che abbiamo visto rapidamente i rassegni ai vari punti di vista e come è possibile navigare al loro interno adesso continuiamo a distribuire gli altri disegni all'interno della scena. Lasciamo pure il monitor front e aggiungiamo gli altri oggetti. Cominciamo dalla famiglia per esempio la prendiamo la aggiungiamo nella scena la prima operazione da fare come sappiamo è accendere il pulsante che attiva al 3d questo cubetto qui. Ora nel punto di vista front mi accorgo immediatamente qual è la distanza della famiglia dal prato quindi con la posizione p posso immediatamente abbassarla usando il secondo parametro. Magari vado a vedere un poco più da vicino direi che ci siamo però immediatamente mi accorgo anche che la dimensione del disegno della famiglia è troppo grande rispetto alla casa quindi adesso la riduciamo in modo tale che i personaggi siano alti poco meno della porta. Prima di farlo naturalmente mettiamo l'anchor point qui alla base in modo che i piedi non si spostino quindi con la palette move anchor point clicchiamo qui in basso. Ora possiamo attivare la scala e ridurre la dimensione io direi più o meno così. Ora vogliamo mettere la famiglia all'inizio del vialetto davanti alla casa per cui il punto di vista che sicuramente ci aiuta di più a posizionare la famiglia in quel punto è il punto di vista top dall'alto quindi qui a sinistra cambiamo anziché front mettiamo top. Con il tasto destro andiamo a zoomare nella zona che ci interessa e per mettere la famiglia in questa zona qui agiamo sulla posizione z e x quindi tasto p per mettere in evidenza la posizione la sposto in avanti con la position z e poi a destra con la position x. Intanto guardiamo in active camera che sia realmente nella posizione che ci interessa e io direi che qua ci siamo. Benissimo. Ora magari diamo una rapida occhiata in custom view per vedere come procede l'assemblaggio della scena magari zoom un poco nella scena e come vedete la famiglia si trova proprio all'inizio del vialetto che conduce la casa. Benissimo continuiamo. Aggiungiamo adesso gli alberi che posizioneremo in corrispondenza di questi punti che si trovano intorno alla casa e incominciamo a sistemare il primo albero su questo punto qui a sinistra. Quindi prendiamo l'albero, l'aggiungiamo, attiviamo il pulsante del 3D. Direi subito di mettere il punto di vista front per vedere quando l'albero appoggia a terra, quindi front, lo abbassiamo, quindi con la position p lo abbassiamo finché non tocca terra. Eccoci. Ora mettiamo l'anchor point alla base usando la palette move anchor point e con la scala riduciamo la dimensione e in questo caso potremmo farlo più o meno di questa grandezza qui. Bene, ora per andare a metterlo sul primo punto qui a sinistra della strada come abbiamo fatto per la famiglia ci facciamo aiutare dal punto di vista top. Quindi top, dobbiamo spostare la casa a sinistra e poi avvicinarla noi. Quindi cominciamo con la position x e poi un poco più indietro con la position z. Benissimo. Ora siccome l'albero in questa posizione non è all'interno dell'inquadratura dal punto di vista active camera diamo un'occhiata a tutta quanta la scena guardandola in custom view. Benissimo. Se ci avviciniamo un attimo ci accorgiamo che l'albero si trova proprio in corrispondenza di quel punto lì. Magari lo spostiamo leggermente a sinistra. Ora per mettere gli altri alberi sugli altri punti del prato basta duplicare questo albero e guardando la scena dal punto di vista top distribuirli anche sugli altri punti. Quindi andiamo in top allarghiamo un poco la scena duplichiamo l'albero quindi lo selezioniamo ctrl d evidenziamo la posizione e incominciamo a spostarlo in avanti. Quindi così e poi un poco a destra finché non si trova in corrispondenza del punto. Magari zoomiamo un po' di più direi che va spostato ancora un po' e ancora un po' a sinistra. Bene. Ora proseguiamo. Duplichiamo di nuovo l'albero ctrl d il duplicato lo spostiamo un poco più a destra e un poco più avanti qui. duplichiamo ancora. Con la sua posizione lo spostiamo a destra. In questo caso ci limitiamo semplicemente a spostarlo a destra. Duplichiamo ancora. Il prossimo lo dobbiamo mettere più vicino a noi quindi a questa altezza e poi un poco più a destra. E l'ultimo dobbiamo metterlo qua giù in basso. Quindi ultima duplicazione e poi con la posizione lo avviciniamo ancora di più e poi lo mettiamo qua. Diamo rapidamente un'occhiata in custom view in modo che vediamo tutta quanta la scena dall'alto e direi che ci siamo. Ora ci mancano le due staccionate qui davanti alla casa, la mucca, i fiori e poi le due colline dietro. Bene. Incominciamo dalla staccionata. Prendiamo il disegno staccionata. Lo aggiungiamo nella composizione. Accendiamo il pulsante del 3d. Attiviamo il punto di vista front. Abbassiamo la staccionata finché non tocca il prato. Quindi a questa altezza qui. Mettiamo l'anchor point alla base in modo che possiamo rimpicciolire correttamente la scala della staccionata e io direi di ridurla a questa dimensione qua. Ora andiamo a metterla qui nell'angolo a sinistra del vialetto. Quindi di nuovo andiamo in top e con la posizione lo spostiamo più avanti e poi un poco più a sinistra e qui direi che ci siamo. Duplichiamo immediatamente la staccionata e ne mettiamo una copia anche a destra. Quindi ctrl d. Evidenziamo la position e la spostiamo a destra in questa zona qua. Bene. Come al solito diamo un'occhiata in custom view per vedere se tutto quanto procede bene. Direi che ci siamo. Ora due file di girasoli dentro questo rettangolo scuro qui. Quindi prendiamo i girasoli, li aggiungiamo nella timeline, accendiamo il pulsante del 3D, andiamo nel punto di vista front. Con la posizione abbassiamo i fiori finché non toccano il prato, cioè fin qui. Mettiamo l'anchor point alla loro base, li rimpiccioliamo con la scala. Direi che così va bene. e ora li andiamo a mettere in corrispondenza del rettangolo scuro. Quindi di nuovo in top. Quindi posizione. Spostiamo in avanti con la posizione z e poi a sinistra finché non si trovano all'interno del rettangolo. Magari un poco più in avanti. Perfetto. Ora duplichiamo questa fila di girasoli. CTRL-D e li spostiamo un poco più avanti ancora. Bene, in questo caso qui, per differenziare un poco la seconda fila di girasoli, la possiamo ribaltare orizzontalmente. Quindi possiamo usare lo strumento Flip Horizontal. Quindi selezioniamo la seconda fila di girasoli, andiamo nel menu Layer, Transform, Flip Horizontal. E come vedete i girasoli si sono ribaltati orizzontalmente in modo che le due file di fiori appaiono in modo un po' diverso una dall'altra. Diamo sempre un'occhiata anche in Custom View, se tutto procede bene. Direi che va benissimo. E ora dietro gli alberi due file di colline. Le colline in primo piano le mettiamo qui e le colline in secondo piano al termine del prato. Quindi prendiamo il disegno colline primo piano, le aggiungiamo alla scena, accendiamo il pulsante del 3D, osserviamo la scena dal punto di vista front. Come al solito dobbiamo spostarle in basso, quindi giù qua. Spostiamo l'Anchor Point in basso e in questo caso direi che le colline vanno un poco ingrandite, perché se guardate questo edificio qua è molto più piccolo rispetto alla casa, quindi con la scala aumentiamo la dimensione, io direi di arrivare fino a questa grandezza qua. Bene, questa volta per spostare la collina più lontano dopo gli alberi direi di osservare direttamente la scena in Custom View, in modo che vediamo un poco meglio tutta quanta la scena. Quindi soltanto con la posizione Z spostiamo in avanti la collina, io direi di fermarci poco dopo gli alberi, quindi più o meno in questa zona qua. E ora l'ultimo strato, cioè le colline sullo sfondo. Quindi prendiamo colline sfondo, le aggiungiamo la scena, accendiamo il pulsante del 3D, diamo un'occhiata frontale, dobbiamo come al solito spostare il disegno in basso, quindi arriviamo a questa altezza qui, mettiamo l'anchor point alla base e anche in questo caso direi di ingrandire un poco di più la scena, in modo che l'edificio sullo sfondo sia un po' più grande, io direi più o meno così. Di nuovo andiamo in Custom View e spostiamo con la posizione Z le colline in fondo al prato. Bene, ora con il tasto destro dello strumento camera ci allontaniamo un poco e adesso orbitando intorno alla scena vediamo come tutti quanti i disegni sono ben distribuiti. Ora ci manca l'ultimo disegno, l'auto arancione, che oltretutto deve essere anche animato, cioè deve passare sulla strada da sinistra a destra, quindi prendiamo auto arancione, l'aggiungiamo alla scena, accendiamo il pulsante che attiva il 3D, andiamo nel punto di vista front e in questo caso l'automobile è leggermente più in basso rispetto al prato, quindi dobbiamo con la posizione sollevarla un poco, più o meno così, mettiamo l'anchor point in basso e con la scala la riduciamo così. Bene, ora andiamo nel punto di vista top per vedere se la macchina si trova al centro della strada. Sì, ci siamo quasi, dobbiamo spostarla leggermente più verso di noi, io direi più o meno in questa zona qui. E ora faremo l'animazione sulla sua posizione X. La facciamo partire al tempo zero all'inizio della strada e dopo 10 secondi la facciamo arrivare in fondo alla strada a destra, quindi prendiamo il cursore del tempo, lo portiamo al tempo zero, la proprietà position è già in evidenza, in questo caso prima di spostare la macchina andiamo nel punto di vista custom view, in modo che vediamo tutta quanta la scena intera e ora con la posizione X spostiamo la macchina all'inizio della via, io direi di farla partire da qua. Quindi accendiamo l'orologio di position, poi prendiamo il cursore e lo portiamo al termine della scena, cioè a 10 secondi e sempre con la position X spostiamo la macchina in fondo alla strada, quindi più o meno qui. Adesso clicchiamo sul monitor di destra in modo da attivare l'active camera e ora possiamo fare la preview su tutta quanta la scena. La velocità di passaggio dell'automobile è perfetta quindi ci siamo. Bene ci manca soltanto l'ultimo elemento il più lontano di tutti che è lo sfondo. Lo prendiamo, lo aggiungiamo alla scena e in questo caso appunto siccome è l'ultimo livello e in teoria si trova una distanza quasi infinita rispetto agli oggetti in primo piano, non accenderemo il pulsante del 3D, semplicemente ci limiteremo a spostarlo come ultimo livello della timeline. Quindi lo prendiamo, lo mettiamo qua in fondo dopo il livello prato e come vedete si vede per ultimo senza che lo abbiamo inserito all'interno dello spazio 3D. E questo lo faremo spessissimo con gli elementi che devono stare sullo sfondo e che immaginiamo si trovano a distanza grandissima rispetto agli oggetti in primo piano. Prima di concludere vi faccio notare che questo livello sfondo che è rimasto 2D in active camera lo si vede insieme agli altri livelli tridimensionali, mentre negli altri punti di vista gli elementi che non sono 3D non si vedono e quindi vediamo tutti i disegni tranne lo sfondo e questo vale anche per esempio nel punto di vista front. Come vedete lo sfondo qui non si vede. Benissimo, direi che per quanto riguarda la lezione di oggi ci fermiamo qui. Nella prossima lezione cominceremo a introdurre le camere in modo da poter variare il punto di vista in active camera. Benissimo, quindi ci vediamo alla prossima. Ciao!